Le navi di grano bloccate la scorsa estate nei porti ucraini hanno evocato il fantasma della carestia dell'emergenza alimentare, facendo schizzare i prezzi del cibo a livelli insostenibili. Ma è solo la guerra che mette sotto pressione il nostro sistema di produrre e approvvigionarci? O sono altri i fattori che influiscono sul buon vivere delle nostre società? Forse è giunto il momento di ripensare completamente il nostro modo di vivere su questo pianeta. Ne parliamo a Protestantesimo in onda su Rai3 domenica 2 ottobre alle ore 7 e successive repliche. Continuate a seguirci su Facebook, Twitter e RaiPlay, dove potrete vedere questa e tutte le altre puntate.